A nome del Kai di Bassano e Kai Justini ringraziamo il terzo l'occhio per questa condizione. A nome del Kai di Bassano, un po' naturalistico, volevo ringraziare gli amici che abbiamo trovato, sono proprio simpatici, disponibili, i bravi organizzatori del Kai di Ossia. Grazie! Noi ringraziamo tutti, ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato a questa gita, penso che sia piaciuta a tutti. Come cappegita ringraziamo il Kai di Bassano per lasciare venire. Purtroppo non possiamo ringraziare il signor Peppe D'Aieti, ma lo ringraziamo personalmente questa sera e domani sera, perché Peppe D'Aieti è la chiave di Pantelleria. Abbiamo gustato questa meravigliosa isola, questa è stata la ciliegina sulla torta. rinnoviamo naturalmente i complimenti all'albergo, estendendoli a tutti i ragazzi dell'animazione che ci hanno accompagnato, sia animazione, i ragazzi col servizio, penso che nessuno non potevamo trovare di meglio, giusto? Sicuramente. Un grazie a tutti di partecipato alla prossima volta. E il finale è un passito eccellente, penso che sia facile. E il finale è un passito eccellente, penso che sia piaciuta, E il finale è un passito eccellente, penso che sia piaciuta, Viva, viva i cari! Voce! Voce! E a queste serine, per la testa che ne andiamo, viva, viva i cari! Viva, viva i cari! E speriamo che tra cent'anni, quando un altro canterà, viva, viva i cari! Viva, viva i cari! Viva, viva i cari! E a queste serine! E per i cari di Ostiglia, e per il gruppo noterroristico del cari di Bassano, e per l'Hotel Suvacchi, e per Peppe D'Aieti... Ippi Pura! 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 Ippi Pura!